Ciao amici, come va? Volevo portarvi un regalo dalla Decina Sud che è stata pensata e ideata per dare una bella spinta forte che possa centrare il punto nel cuore di ogni nostro amico italiano e europeo affinché possa unirsi a noi ed andare verso Israele e quale migliore occasione di presentarla in un meeting così importante dove si sta verificando un grado di connessione così potente, così forte che anche Rav sta rimanendo sorpreso da questa cosa quindi perché non spingere e sfondare ancora di più questo muro delle barriere io ho un consiglio questa canzone si chiama Hope perché è costruita con l'intenzione di avanzare quindi una sorta di camminata tutti quanti insieme attraversando, sorvolando gli sforzi sfondando barriere però senza mai fermarsi quindi questa è l'intenzione le parole sono uscite dal cuore di tutti quanti noi e sono veramente belli a me piacciono tantissimo spero piacciono anche a voi 1, 2, 3, 4 0, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 9 9, 9, 1, 1, 2, 3, 1 Dice a tutti noi di andare al congresso insieme in Israele Il nuovo grado è già arrivato, se nel nuovo mondo non si è stanca Tutti insieme andiamo in Israele Così corro per il biglietto perché voglio conseguiti In cui ho scritto fatto e non ci penso sì Perciò non lasciare questo amore scivolarti dalle mani Ciò che conta adesso e mai si ripeterà Proveremo a stare insieme questa mutua garanzia E la luce ci corretterà Faremo in modo che ogni cuore ci conosca nell'amore Il pezzo roto si ricongiungerà Riveleremo il posto in cui noi siamo Questo ci ricompenserà Tanto di noi dove il cuore si rivelerà E la mancanza di ogni cuore Da rapportare nell'amore Ogni uomo in questa nuova umanità Abbracciamoci più forte Per sconfiggere l'amore Togliamo insieme per la libertà Forza amici costruia Questa nuova umanità Questa nuova umanità Questa nuova umanità Chiaoo! Grazie a tutti.